Dal saluto militare durante i controlli alla multa mentre corre in ospedale, per Vanessa, infermiera residente ad Ardia che lavora nell'asla RM3, il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 si è fatto sentire e come. Ma stavolta il lavoro non c'entra, o meglio non direttamente. Vanessa, come tanti altri infermieri italiani, si è sentita chiamare Angelo, Eroi, durante l'emergenza. Spesso anche durante i controlli stradali bastava mostrare il beige dell'ospedale, immediatamente la risposta era quella di chi sapeva quanto fosse importante e complicato in quelle ore il suo mestiere. Piccole gratificazioni o complicità per chi in fondo sa di stare dalla stessa parte della barricata, che in questa fase 2 sono a quanto pare bruscamente venute meno. Per strada può capitare che in un giorno qualsiasi, quando ti reghi al lavoro, così come hai fatto dall'inizio della pandemia, vieni fermato da una pattuglia della Polizia Municipale. Ho mostrato con molta leggerezza il mio badge. Mi è stato contestato l'effrazione dello specchietto laterale sinistro. Nel parcheggio dell'ospedale purtroppo l'ho trovato così. Vanessa non contesta la correttezza della multa, ne sostiene che la pattuglia della Polizia Locale non abbia applicato bene il codice della strada. In cassa, semmai, con amarezza, quella mancanza di empatia e di comprensione, cosa che paradossalmente, strano scherzo del destino, avviene nella giornata dedicata agli infermieri. In questo periodo di tempo, al di là del lockdown, non è che abbiamo avuto tempo, noi infermieri e tutto il personale sanitario, di occuparci di quelle che sono le esigenze personali, quelle che esulano da quello che è l'ambiente lavorativo. Mi sono ripromessa che appena possibile avrei lasciato la macchina dal meccanico, dal carrozziere per poterla far riparare. Dovendo stare in prima linea, medici, infermieri, personale sanitario, tutto, non può fruire delle ferie. Quindi, se tu dedichi l'unico giorno che hai, che è quello di riposo, per dormire fondamentalmente e poi invece fare avanti e indietro il carrozziere e rischiare di non riprendere la macchina il giorno dopo, rischi di stare a piedi. Per chi come me lavora a 30 km dal luogo di lavoro, è impossibile poi recarsi il luogo di lavoro con i mezzi. Quindi la mia priorità era quella del servizio al cittadino. Ora, io non voglio avere un valore aggiunto dinanzi a una mia mancanza. Era il gesto, io mi sono sentita umiliata, non come persona, ma come professionista. Perché non capite in questo momento che non possiamo vedere neanche i nostri cari, ma noi non li possiamo proprio vedere. Se non avessi portato la cintura, mi creda, non saremmo qui a parlare. L'avrei accettato in maniera diversa. Una vicenda che ovviamente al termine di una pandemia feroce e spietata, come quella vissuta negli ultimi mesi da tutto il paese e dal resto del mondo, non intacca minimamente il bilancio più importante. Io non voglio la medaglietta di essere un eroe. Non l'avrei mai voluta, non credo neanche nessun medico abbia voluto comunque mai scontrarsi con un nemico invisibile. Però ci siamo capitati dentro. Qual è il nostro lavoro, il nostro obiettivo? La salute del cittadino. Ami il tuo mestiere. Da morire.